La grande sala orientale del monastero Foguang situata sul sacro monte Wutai nella provincia di Shanxi, Cina, rappresenta un esempio eccezionale di architettura buddista risalente all'anno 857. Questa struttura storica fu eretta in sostituzione degli edifici distrutti durante la persecuzione antibuddista, segnando un importante momento di rinascita religiosa e culturale. La facciata della grande sala orientale è caratterizzata da sette campate, delle quali le cinque centrali funzionano come ingressi, mentre le due esterne contengono finestre arricchite da griglie verticali. Questo design non solo ottimizza l'illuminazione naturale all'interno ma conferisce anche un senso di simmetria e grandiosità alla struttura. Il tetto spiovente della sala, con un colmo pronunciato e decorato con grandi elementi ornamentali, riflette gli elevati standard delle leggi suntuari e degli edifici imperiali cinesi, indicando l'importanza e il prestigio del monastero. All'interno la sala si apre in un unico grande spazio, dominato da una piattaforma larga quanto cinque campate centrali. Questa piattaforma ospita tre immagini sacre di Buddha e altre divinità minori, fungendo da fulcro spirituale della sala. Dietro la piattaforma, una parete divisoria, offre spazio sufficiente per il passaggio, mantenendo al contempo una separazione funzionale tra le diverse aree di culto. L'area davanti alla piattaforma è destinata all'adorazione, una caratteristica comune nelle sale buddiste di grande rilievo. I resti di pittura sulle mensole suggeriscono che le pareti interne erano un tempo vivacemente decorate, contribuendo a creare un ambiente ricco e sacro per la pratica religiosa. Le porte della sala sono realizzate con robusti assi di legno unite da tavole orizzontali e sono supportate da colonne imponenti la cui altezza è quasi pari allo spazio tra di esse. Le finestre in stile dell'epoca sono protette da 15 sbarre verticali e una orizzontale con carta incollata internamente per isolare e proteggere l'interno dalle intemperie. Le mensole che sostengono l'angolo del tetto sono massicce e strutturate in sette strati sovrapposti, dimostrando l'aderenza agli standard imperiali. Il monastero Foguang e la sua grande sala orientale non sono solo capolavori architettonici, ma anche testimoni del profondo legame tra architettura e spiritualità nel buddismo cinese. La loro conservazione e studio offrono preziose intuizioni non solo sull'arte e l'architettura, ma anche sulle pratiche religiose e la storia sociale della Cina durante il periodo Tang. La grande sala orientale del monastero Foguang rimane un simbolo dell'eredità buddista sul monte Wutai, attirando sia fedeli che studiosi desiderosi di esplorare la sua storica grandezza e la sua bellezza architettonica. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!